Tanto entusiasmo, sono rimasto impressionato dal vedere quanta gente è venuta solamente per delle firme sull'album. È impressionante, Bari è veramente una piazza calorosa e tanta tanta roba. A Bari mi sto trovando molto bene per ora, ho trovato veramente una piazza spettacolare e il fatto di ritrovare Leonardo è tanta roba, è anche inaspettato perché succede poche volte nel calcio di rincontrare a questi livelli amici di infanzia, amici di una vita diciamo, però mi sta dando una mano in tutto. L'importante è provare a dare una mano alla squadra, al massimo delle mie possibilità e dobbiamo cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo, partita per partita, che è fondamentale. Poi vedremo dove arriveremo. È importantissima la parita col Frosinone, ma sono importantissime tutte le partite che affronteremo da qui in avanti. Una vale l'altra perché i tre punti che ci giochiamo con il Brescia, con il Cosenza, valgono quanto quelli che giochiamo col Frosinone. Quindi Frosinone sicuramente sarà una bella partita, però l'importante, come dice il mister, è il domani. Partita per partita dobbiamo riuscire a portare a casa più punti possibili. Ci aspettiamo il classico San Nicola, che ci dà una mano ed è l'uomo in più in campo tutte le partite.